Bisogna tornare nelle piazze, credo che sono le piazze da occupare con il cinema, in qualsiasi modo, anche arene, le spiagge, il mare, fare qualsiasi cosa possibile per riportare il cinema tra la gente. C'è bisogno di ripartire, di tornare a girare, di tornare tra la gente, ma innanzitutto di portare il cinema tra la gente, perché ce n'è sempre meno, ce n'è stato sempre meno, c'è bisogno di questo. Grazie.